Puntuale giunto il turno di stop per Ferrara, il capitano del Taranto salterà così la sfida casalinga contro il Latina in programma domenica allo Iacovone. Una perdita non indifferente anche se Capuano potrà contare su diverse opzioni per la sostituzione. Il primo nome sulla lista è quello di Formiconi, l'ex Gubbio si sta dimostrando un vero e proprio giole di sicura affidabilità da sfruttare in base alle benienze. Trattandosi di un esterno inoltre, talvolta adattato come braccetto nella difesa 3, può senz'altro ricoprire quella zona di campo. Ma c'è anche l'idea Crecco, mezzala di nascita ma spesso impiegato anche ai tempi della Serie B a Vicenza nel ruolo di terzino sinistro. Senza dimenticare il nuovo arrivato Boccadamo che nel corso della sua recente esperienza al Montevarchi ha giocato largo sia a destra che a sinistra. L'altro dubbio principale riguarda il comparto offensivo, dovrebbe tornare arruolabile Tommasini ma non è detto che l'ex Paganese nel caso parta dal primo minuto. Scalpita invece Nocciolini, uno dei calciatori già in condizione, considerando la sua recente parentesi a Giuliano.